È urgente convocare il coordinamento delle associazioni degli enti locali della Sardegna per un sostegno politico e operativo al Presidente della Regione nella battaglia contro il diffondersi del coronavirus in tutta l'isola. A sollecitare la riunione il Presidente dell'ASL Sardegna, Rodolfo Cancedda, che ha scritto una lettera al Presidente del Lanci, Emiliano Dejana. Non bastano le sollecitazioni solitarie del Lanci, sostiene Cancedda. È necessario un sostegno unitario e forte di tutte le associazioni degli enti locali e proposte condivise per una strategia vincente nella lotta al coronavirus. L'adozione di provvedimenti governativi e regionali in ordine alla recrudescenza del diffondersi dei contagi da coronavirus e delle conseguenti ricadute sul tessuto socio-economico della Sardegna, scrive Cancedda, impongono una strategia comune di raccordo tra la Regione e il sistema istituzionale degli enti locali. L'iniziativa intraprese nel solitudine dal Lanci e Sardegna, sottolinea Cancedda, non hanno prodotto alcun effetto positivo e hanno di fatto indebolito, se non danneggiato, le stanze complessive portate avanti dai singoli comuni, che non hanno avuto finora nessun sostegno politico e organizzativo dal coordinamento delle associazioni degli enti locali, in forza del suo riconoscimento giuridico incardinato nell'ordinamento della Regione Sardegna. Da qui la reiterazione della richiesta formulata a Lanci il 1 ottobre di riunire il coordinamento al fine di affrontare le problematiche connesse al coronavirus e al pericoloso diffondersi dei contagi, con l'obiettivo di fornire il necessario sostegno politico e operativo al Presidente della Regione e insieme mettere a punto le più opportune strategie, conclude Cancedda.